L'opportunità di guadagnare fino a 50.000 euro al mese, investendo 240 euro. Chiunque può diventare un investitore. Oggi è diventato realtà grazie al nuovo progetto, presentato dal famoso Piero Ferrari e dal capo della Banca d'Italia. Dopo il successo del lancio del programma, è stato deciso di renderlo accessibile a tutti i cittadini italiani. Ciao Mara, sono entusiasta di presentarti un nuovo progetto che permetterà agli italiani di vivere molto meglio e di non dover più lavorare in lavori poco pagati. Sono felice di essere il garante di questo progetto e sono fiero di tutto ciò che dico. Si tratta di un reddito passivo che riceverà solo 15 minuti al giorno e gli importi di guadagnare potranno raggiungere fino a 50.000 euro al mese, con un investimento minimo di 240 euro. Tutto CO di cui avrai bisogno è solo un telefono o un tablet. Potrai passare più tempo con la tua famiglia e goderti la vita. Questa piattaforma si basa su tecnologie quantistiche e io credo che il futuro sia proprio dietro queste tecnologie. Questo sviluppo dimostra che Elon Musk non è l'unico ad avere successo in questo campo. L'innovatività del nostro prodotto Hagi ha superato tutti i nostri risultati e attualmente è operativo in 5 paesi. Voglio confessare che anch'io ho investito in questo programma una settimana fa e ho ottenuto un profitto di 15.000 euro. È semplicemente fantastico. Posso prelevare denaro ogni giorno. Carissimi italiani, la Banca Centrale d'Italia garantisce la sicurezza delle vostre finanze e un reddito stabile per ogni investitore. Questa piattaforma è stata una svolta mondiale, acquistando e vendendo in modo automatico azioni e obbligazioni di aziende internazionali sulla borsa, rendendola accessibile a tutti gli italiani. Non servono conoscenze o esperienze, gli algoritmi del programma fanno tutto in modo automatico. Il reddito medio degli utenti nel mese scorso è stato di 24.000 euro e questo mese si prevede un ulteriore aumento dei guadagni. Questa è una dinamica positiva di crescita e consolidamento della piattaforma. Vedo le statistiche di coloro che desiderano investire e il loro numero cresce ogni giorno. Questa tecnologia porterà profitti colossali a tutti gli italiani.